ok eccoci sto ancora sclerando per fare sta cazzo di missione con le ia stupide come sono cazzo posso fare tutto stelta ma entrare lì zero proprio occhio abbiamo compagnia c'è un sicario con una minigun vicino al poligono di tiro ho chiesto una ricognizione dell'area ai ribelli ora sappiamo tutti quelli che ci sono niente il drone è partito c'è un arco armato con un mitra ne ho visti 10 le donne torretta bersagli marcati ho perso il mio bersaglio ho perso il mio bersaglio apro il fuoco lol questi bug però ok 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 Sopra i cingones, a che te scondi? Versaglio acquisito, versaglio marcato Hai i tuoi ordini Amico eliminato Sopra i debito, llevo No te responda, cobarde Roger, versaglio marcato Ok, versaglio marcato Pronto ad andare Nemico a terra Donando corrente Siete inutili, ce l'hai davanti Perché non hai sparato? E continuano a sparargli Dio mio Niente eh Che merda Boom, bersaglio a terra Granata, via 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 Bersaglio marcato Scatto l'ordine Versaglio acquisito Pronto al fuoco Un bersaglio in meno Fuerte, fuerte Fuerte no what no Sì, sì. Sì, è stato mitragliare pesante del cartello, accanto al poligono di tiro. Attivo il drone. Ok, c'è un allarme in funzione. Ho un altro bersaglio. Bersaglio numero 3. Ne vedo uno con i mitra. Generatore avvistato. C'è un sicario di fianco alla pila di pneumatici. Qui c'è un arco. Il posto di blocco, laggiù. C'è un bersaglio con mitra. Bersaglio avvistato. Membro del cartello fratta blanca. Abbiamo l'armatista. Bersaglio. 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 Elicottero unitato di pattuglia. Occhio. Ho chiesto ai ribelli di fare ricognizione per noi. Ho avvistato un sicario. Dove c'è il container. Cattivi marcati. Al tuo via, capo. Ok, bersaglio marcato. Bersaglio. Pronto all'ingaggio. Bersaglio eliminato. Oh, yeah. Bersaglio. 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 Versagli marcati in attesa di ordini. Ho il nemico. Roger, versaglio marcato. Pronto ad andare. Un cantino in meno. Grazie. 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 Sì, ma venite qui. 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 Ok. 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 no fanculo non ci credo c'è il culo bisogna di qualcosa più veloce cerchiamo delle informazioni tutto ok tutto ok sono in agente ok abbiamo finito certo che questi tizi sono degli incapaci ciao 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 Oh, fuck Oh, fuck Hmm È fatta, chiamo i ribelli così vengono a prendersi tutto Bene, e poi ci facciamo una bella servessa Puntabilità e puntabilità Possiamo andare? Bene, bene, bene È da un po' che Bukat si limita all'addestramento Ma sarà di certo al nostro livello Non è il momento di abbassare la guardia Devo dire che non mi piace l'idea di uccidere Granger Merda, non mi sono avvolato per uccidere degli americani Carl Bukat ha rinunciato alla sua cittadinanza il giorno che ha iniziato a lavorare per il Santa Blanca Ma non funziona così È sempre un cittadino Per la carta dei diritti merita un giusto processo Non è così che dovrebbe funzionare Ma tant'è Se la CIA dice che deve morire Lui muore Qualcosa mi dice che non è il tipo da farsi arrestare In ogni caso Prevedo una pioggia di piombo Mettiamo da parte le nostre idee Eliminiamolo e basta Per la carta dei diritti merita Per la carta dei diritti Super Super Sam oh 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 i think i hate this game oh 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 seriously oh come on oh ooh ah seriously oh 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 trenta secondi cristo oh no ah ah no no dobbiamo cercare delle informazioni ci sono forze e Grazie. 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 Adesso si blocca tutto. Ok. 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 Se ne passate, vado. Merda, chi? Dalla madre? Evi che ho battuto. Voi, no! Abbiamo finito, tutto ok? Oh, alleluia. Alleluia, allefuckingluia. Alleluia. 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 Ok, ok, ok Ehi, comanda Guido io la moto Andate avanti senza di me Grazie a tutti Vim vim Ho 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 Ok Vedo un secondo bersaglio Un terzo Ci sono dei pannelli luminosi qui Ecco il bersaglio numero 5 Ok, c'è un allarme in funzione Qui c'è un generatore Vedo dei pannelli luminosi Il drone è partito Ok, c'è un'allarme in funzione Indietro, indietro Ehi, c'è un arco Controllate la fila di pneumatici Ne vedo uno con i mitra Abbiamo un'arma fissa Qui c'è l'allarme C'è un bersaglio con mitra Vedo un capitano Con questo siamo a 10 Vedo un sistema di antiaerea Il drone è andato Colpa delle interferenze Ok, c'è un'arma in funzione Due sicari Laggiù, vicino al container Questa è un'arma in funzione Se potessi... E' storia. Ci stanno colpiando sul collo, attenzione. Che ha fatto scattare l'allarme? Ho innescato il C4. Vengono dritti verso di noi. Che cazzo? Ok. 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 Grazie. 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 Grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ehi, mitragliare pesante del cartello. Lì, sul terrazzo. Drone in volo. Non vedo niente. Il drone subisce interferenze. Il segnale è pessimo. Creano interferenze al drone. Ehi, soldato del cartello. Accanto alla pila di pneumatici. Grazie a tutti. Temico a terra. Attenzione. Sicario armato di mitra. Versaglio a terra. Qualcuno è nervoso e ti evo. Potrebbe scoprirti. Ok, ancora tutto bene. Uccisione. C'è un arco. Non vedo nessuno. Dove c'è la pila di pneumatici. Dove c'è la pila di pneumatici. Tutto bene. E' spostato. E' spostato. 2-on-2 oh 3 to 3, 3 su 3, 3 su 3, 3 su 3, vai vai vai, sono un mostro, spettacolo i ribelli hanno bisogno di rifornimenti e quel elicottero ne è in Vieno, rubiamolo e mandiamolo nella direzione giusta che cazzo è successo? cosa ne ho toccato? che è? e già è mostro appiedato qua cattivi in zona ehi, due soldati del cartello, lì, al poligono di tiro un attimo, ti scusami un altro bersaglio ok, verso il bersaglio vedo una torretta bersaglio acquisito, in attesa bersaglio KO c'è un sicario bersaglio acquisito visuale sul bersaglio persa quindi mangiato vieno 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 innamorare il vieno Cazzo, cazzo. Apri il fuoco. Ricciuto. Eeeh, però, com'è a fare un cozzo di convoglio così? O quel cazzo di elicottero? Ottimo lavoro, rimpuliamo e andiamocene. Where is this guy? Ancora. Ancora. Niente, mi prende proprio per il culo. I metto io ai comandi. Sto cazzo di convoglio. What the fuck? What the fuck? I hate my life. Ti vedranno, indietro. Andiamo. E' un furgone pieno di scorte mediche. In quel convoglio, faranno sicuramente comodo ai ripeti. Boh, ma veramente, io non capisco. E questo se ne va, sta a vedere. Grazie. Vaffanculo. Vaffanculo, me ne sbatto le partite civili. Mi avete rotto il cazzo. Mi avete rotto il cazzo. Si, 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 si. Si, si, si. Mi avete rotto il cazzo. Mi avete rotto il cazzo. Buongiorno. Invece. Ho ho fatto il cazzo. ha donato gli ognuno di dollari e centinaia di dollari per aiutare il corpo soprattutto boh adesso non passa una cazza di auto attivo il drone vedo un sistema di antiaerea un secondo versaglio roger versaglio marco ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli ok eccomi ingaggio versaglio a terra libero voi tutto bene l'anno scorso l'esperanza santa blanca ha donato milioni di dollari il governo ha ignorato il problema ha ignorato i due piani quando tutti si voltavano dall'anno carica innescata e in posizione ehi ti alzo una mina qui arriva un elicottero a terra il furgone sta tagliando la porta l'elicottero è abbattuto il furgone è andato che cavolo era un civile l'auto di scorta è stata distrutta attacco il nemico fatto controlliamo il furgone e vediamo se c'è qualcosa di valore un'intera scorta di medicina per i loro uomini in per la città un'intera scorta di medicina per i loro uomini un'intera scorta di medicina per i loro uomini che c***o, da dove? spera, a partire da madre con todo vamos, le siate che manda, il pares c***o, vengono tre diversi minuti nemico a terra non, 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 non non, 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 non Grazie per la visione! 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 Grazie! Grazie per la visione! 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 Grazie! Grazie per la visione! 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 è storia ok ne vedo uno con i mitra ok 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 bersaglio a terra ok 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 bersaglio acquisito bersaglio a terra nessun bersaglio ripeto nessun bersaglio ok ok ehi soldato del cartello ditemi dove dentro la postazione di tiro tornate da me ok ui ui i ui ui uu i ui ui Grazie. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì.